Come controllare la temperatura della CPU? È molto importante controllare la temperatura dei vari componenti che si trovano all'interno del proprio computer, come quello della CPU o della GPU. E in questo video vi mostro un piccolo software gratuito che vi permette di monitorare la temperatura dei vari componenti. Dopo la sigla, il tutorial. Il nome di questo tool è Opel Hardware Monitor. Ti basterà andare su Google e digitare Open Hardware Monitor Download. Successivamente potrai scaricare questo tool dal sito ufficiale, che sarebbe openhardwaremonitor.org e successivamente andiamo su Download Now. Ecco lo scaricato, ha delle dimensioni ridotte, quindi si scarica subito. Entriamo all'interno della cartella, non c'è bisogno nemmeno di installarlo, quindi lo possiamo mettere anche su una pendrive e utilizzarlo all'occorrenza, anche su altri PC. Andiamo sull'applicazione Open Hardware Monitor e clicchiamo due volte. Allora, qui troverete elencati i vari componenti del vostro computer. Vedete, mi ha visto anche il modello della scheda madre. A noi interessa la CPU. Sto mettendo un po' di ordine perché mi ha aperto un po' tutti i sottomenu. Allora, andiamo sul mio processore, che è un AMD Ryzen 7, il 5700G. Andiamo su più ed ecco varie informazioni che riguardano il mio processore, come ad esempio la frequenza dei vari core. E qui abbiamo la temperatura, che va dai 54-55 ai 58 gradi. Abbiamo anche la percentuale del lavoro di vari core. È possibile controllare anche la temperatura della GPU. Vado su Nvidia GTX 1050 e questa è la temperatura che va dai 45-49 gradi massimo. Inoltre è possibile controllare anche la temperatura dell'hard disk. Io all'interno monto un hard disk della Toshiba e ci porta sui 35 gradi. E ovviamente possiamo controllare anche la temperatura della scheda madre, la tensione ed altre informazioni che potrebbero tornarci utili all'occorrenza. È un tool molto utile che io metterei nella cartella dei tool importanti per il proprio PC. Hai visto il tutorial è stato breve e credo anche utile. In tal caso non dimenticare di iscriverti per non perderti altri tutorial come questo e anche per supportare il canale. Non mi resta che salutarti e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!